L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, ma un posto da commesso si vende a peso d'oro. Vent'anni di concorsi, non tengo un posto fisso, mi sorge un dubbiatrice, ma sono l'unico pezzo, sì? Mario papà, non hai più l'età, se ti svegli presto per cercare il posto. Mario papà, non ti disturba, non hai risa a fare, resta a letto, aspetta che c'è una soluzione, poi si troverà. Mi so occupa la vita, non vengo di dignità, mi arrangio per campare coi soldi di mamma. Quando devo gagnare, c'è una novità, sempre per coerenza, siamo in emergenza, ma chi c'ho papà? L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, ma c'è chi pure senza fa il bagno dentro loro. Se voglio guadagnare, non voglio faticare, mi cerco un posto assurdo e faccio il senatore, sì? Oh, 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 oh? Quando devo gagnare, c'è una novità, sempre per coerenza, siamo in emergenza, ma chi c'ho papà? Sì?